Ringrazio soprattutto l'ingegnere Cogina che ci ha concesso questo spazio per poter presentare l'AVI e la nostra organizzazione. Io faccio parte della sezione di Termini Merese che è da poco costituita in ODV e ci occupiamo diciamo in maniera fattibile di comunicazioni in generale e vogliamo dare il nostro contributo anche al servizio di protezione civile per il popolo che ci riguarda. Innanzitutto vorrei pagare l'AVI. L'AVI è il successo. La dematoria italiana nasce nel 1927, il suo anno di fondazione. L'altra data importante è il 1950 in cui è stato riconosciuto lo status di ente morale, riconosciuto dal Presidente dell'AVI. La distribuzione territoriale dell'AVI è così composta. Abbiamo una sede nazionale a Milano, 19 comitati regionali che inglobano 281 sezioni con 15.000 soci. In tutta Italia. Quanti sono i rei amatori in generale? In generale i rei amatori nel mondo sono 2.500.000 circa, 40.000 solo in Italia, negli Stati Uniti 300.000 e in Giappone circa 320.000. Quindi una notevole somma di persone che sono in giro con le radio e con le varie attrezzature per vari collegamenti e varie attività. Radio amatori famosi sono stati il Presidente della Repubblica, il Consiga, il Senatore Zamberletti, attualmente c'è la nostra astronauta Samantha Cristoforetti e tutte le altre persone che potete vedere e leggere nelle slide. Da Juan Carlos dell'Ispagna, Israe Giordania, Regi Gandhi, eccetera eccetera. Come si diventa il radio amatori? La maggior parte di voi, penso che siete qua in sala, lo siete, però per chi non lo fosse bisogna superare un esame di radiotecnica presso il Ministero delle Telecomunicazioni, e dopo un'istruttoria che i Ministeri della Difesa dell'Interno e delle Comunicazioni fanno sul nominativo, viene rilasciata la cosiddetta patente. I radio amatori, la loro specifica attività è di studiare l'elettronica applicata alla radio, di studio di propagazione delle onde elettromagnetiche, si dilettano in autocostruzioni di apparati di antenna, e sperimentazioni di nuovi sistemi di comunicazione elettronica integrata con le redditi. Attraverso le comunicazioni radio si può comunicare con paesi molto distanti e con isole molto remoti, ristaurando anche rapporti di amicizia con altri colleghi. Le trasmissioni avvengono su una rete di frequenze assegnate proprio al servizio del radio amatoriale in tutto il mondo. In pratica i radio amatori dalle proprie case si collegano con altri colleghi in vari modi. c'è il doppio che non è altro che il modo più antico del codice mostro con i classici tasti o in fonia o in digitale. Si possono utilizzare anche tecniche diverse come collegamenti in via satellite e altri tipi collegamenti. Faccio vedere la mia stazione radio, la mia piccola stazione radio, per farvi vedere un po' i 40.000 radioamatori italiani che cosa hanno nelle proprie abitazioni. Si parte da questa che è una più semplice stazione radio. Questa è la stazione radio del qui presente Luigi T9HRC o era la stazione di... Diciamo che questo è un setup particolare, gli appannati sono tutti miei però era un'attivazione particolare. E' un'attivazione molto semplice per gestire. Più o meno. Un po' difficile. Questa è un po' più complicata perché questa è stata una sfida diciamo particolare perché abbiamo attivato una stazione onde corte della RAI e abbiamo utilizzato delle antenne storiche. Quindi noi operavamo su frequenze pur avendo accanto apparati di grossa potenza e lì abbiamo dovuto utilizzare, a parte un ricevitore diciamo un po' più professionale, poco radioamatoriale, sono ricevitori quei due che c'erano lì tipicamente adoperati sulle navi o dalle stazioni costiere. Lì non c'è nulla di valvolare. Il ricevitore era quello in alto lì, un JRC, è un ricevitore che utilizzano le stazioni costiere mentre quell'altro è un ricevitore quello in basso. Purtroppo il puntatore si è un po'. Questo qui praticamente, questo è un ricevitore che è utilizzato dalle stazioni costiere. Ma il pezzo particolare che Grazia è messo a disposizione da un collega nostro collezionista è questo. Questo praticamente è un preselettore, cioè è un filtro in grado di poter far operare il ricevitore anche accanto a trasmettitori di grossa potenza. Perché lì imposti la frequenza al KHz e praticamente fa dei filtri motori, si ha dei condensatori complementi motorizzati. Ma non è, quello è un pezzo raro, questo è un pezzo... Ma è un pezzo raro. Sì, ma infatti, non è roba alla collezione. Non è un sintoma... No, no, questa è roba che viene utilizzata tipicamente sulle navi militari. Professionale, molto professionale. E lì allora abbiamo fatto... Vabbè, è stata una bella avventura. Ma di esperimenti strani ne abbiamo anche fatto. Altri. Anche insieme... Anche insieme al Paceco utilizzando... Abbiamo utilizzato praticamente un... Un'esperimento. Abbiamo utilizzato un tempo, è stato un esperimento. Una torre a un periodo di anteprima, da 110 metri. Utilizzata dalle stazioni di una bella. Quindi l'abbiamo fatta funzionare. che hanno avere delle due cose.